Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori, un chilometro di coda in direzione Bologna tra Firenze Scandici e Calenzano, rallentamenti in direzione Roma tra Barberino e Firenze Nord. Sulla Fipili, tra Montelupo ed Empoli Est, chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo rallentamenti per lavori tra Montelupo ed Empoli Est in entrambe le direzioni. E sempre per lavori, due chilometri di coda in direzione mare tra Scandici e Ginestra, Fiorentina. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, possibili disagi nel tratto tra Casetta Monte Aperti e Casselnuovo-Berardenga. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!